Oggi vediamo in anteprima il Realme 8i, sia con questo unboxing e prima configurazione, sia con la recensione che trovi all'interno delle schede. Telefono già provato con un'ottima scheda tecnica, uno schermo IPS con 120Hz di refresh rate, una fotocamera con sensore da 50MP e tante altre caratteristiche che costituiscono un'ottima scheda tecnica. Una buona dotazione nella confezione, abbiamo visto qualche anteprima sul profilo Instagram tramite le storie, te lo lascio come sempre in descrizione, e qui sotto trovi anche il link al telefono più tutti i vari approfondimenti. Per qualsiasi domanda puoi scrivermi qui sotto o direttamente appunto sul profilo Instagram. Quindi, detto questo, una dotazione completa, un telefono, un'ottima scheda tecnica, assolutamente da valutare, scopriamolo nella confezione dopo la sigla. Eccoci dunque davanti alla confezione, nome del modello Realme 8i in primo piano, anche sul lato, e nella parte posteriore troviamo un focus sui principali elementi della scheda tecnica, quindi processore Helio G96, un octa-core, 12 nanometri di processo produttivo, batteria da 5000 mAh, quindi è facile che nella recensione tratteremo anche di un'ottima autonomia, ricarica veloce a 18 Watt, schermo 120 Hz, superfluido in fase di utilizzo, fotocamera tripla con intelligenza artificiale e con un tesore da 50 megapixel. Inoltre abbiamo anche il riconoscimento dell'impronta digitale molto veloce, lo vediamo comunque a telefono aperto. Andiamo ad aprire la confezione e come visto anche in precedenza vediamo un messaggio di benvenuto nella famiglia Realme. Qui nella prima parte in modo molto veloce è presente la guida di avvio rapido e anche la cover in silicone per proteggere al meglio lo smartphone, inclusa gratuitamente poi c'è anche la clip se andiamo ad aprire la scatoletta. Inoltre poi c'è ovviamente lo smartphone che adesso andiamo a vedere con protezione e focus sulla parte posteriore delle fotocamere e troviamo poi inoltre il cavo tipo C, tipo A e il caricatore per la ricarica rapida a 18 Watt. Apriamo la busta, estraiamo lo smartphone, design lucido come abbiamo visto anche Realme 8 qui sul canale e questa trama con un riflesso diverso a seconda di come viene colpita la luce. Ancora attenzione per quanto riguarda la parte del design. Andiamo ad accenderlo e nella parte frontale appare molto comodo in fase di utilizzo quindi è leggermente curvo nelle parti laterali e questo garantisce un ottimo grip e si riesce ad utilizzare in modo molto semplice. A questo punto procediamo con la prima configurazione. Selezioniamo prima di tutto la lingua, ci troviamo in Italia, quindi cose che già conosciamo perfettamente, accettiamo i termini di utilizzo e procediamo in avanti e dobbiamo collegarci alla nostra rete. Una volta fatto, procediamo, vediamo che comunque è molto veloce anche in questa fase iniziale. Selezioniamo l'utilizzo dell'assistente Wi-Fi, volendo possiamo anche passare alla rete mobile quando il segnale Wi-Fi non funziona bene o comunque ha una velocità molto scarsa e comincia a fare la prima verifica relativa agli aggiornamenti come da prassi. A questo punto possiamo copiare e importare i nostri dati da un altro telefono Android che abbiamo già a disposizione. Basta cliccare su avanti, cliccare su un backup da un telefono Android e andando a recuperare uno degli smartphone Android a nostra disposizione o il nostro precedente telefono potremo automaticamente, aprendo l'app di Google, copiare tutti i file. Quindi devo aprire l'app di Google direttamente sul vecchio dispositivo, viene fatto l'accoppiamento anche in automatico, ci esce la notifica sul vecchio smartphone, vado a confermare la copia dei dati con l'impronta digitale in questo caso e automaticamente cominciano ad essere passate le applicazioni, i dati importanti, gli account eccetera, semplificando di molto il processo di configurazione. Una volta avviata la copia siamo pronti e possiamo mettere da parte il dispositivo precedente, quindi lo togliamo e possiamo scegliere di cosa andare a trasferire nell'ottica dei dati, quindi tutte le nostre applicazioni, i contatti della rubrica, gli SMS eventualmente, le password, del wifi, quindi importare praticamente tutti i nostri dati importanti per utilizzare come se fosse traslato completamente il nuovo smartphone, come se fosse appunto quello vecchio. Accetto i vari servizi di Google, attendo un attimino per l'impostazione, potrò probabilmente utilizzare anche l'assistente Google, quindi settare ok Google volendo, lo posso fare anche successivamente ovviamente, quindi passo avanti e a questo punto potrei anche inserire un altro account mail, cosa di cui non ho bisogno. Quindi procedo, viene avviata la procedura di ripristino e a questo punto dovremo arrivare sulla parte conclusiva. Ed eccoci dunque alla fine, quindi siamo arrivati alla Realme UI, la personalizzazione di Android da parte di Realme, che è estremamente leggera, infatti adesso andiamo a vedere anche spostarsi nei menu è estremamente agevole e veloce. A fronte di questo possiamo vedere alcune applicazioni, alcune delle cose che sono già preinstallate e adesso automaticamente dal backup verranno poi ripristinate tutte le applicazioni che utilizzo io. Questa è una versione particolare del telefono, quindi è arrivata in anteprima, non è il software definitivo quello lì di italiano, però come vediamo funziona perfettamente ed è anche estremamente fluido. Lo tratteremo bene all'interno della recensione. Per ora l'ultima segnalazione da fare riguarda il sensore di impronte posto nella parte destra, già apprezzato anche su altri smartphone che abbiamo visto sul canale, in quanto quando lo vado a prendere posso sbloccare in modo molto agevole, quindi non devo fare questo movimento, quello sotto lo schermo comunque era ottimo nel Realme 8 che vi lascio nelle schede, e da questo lato qui proviamo anche quest'altro tipo di sensore che sicuramente andrà bene. Detto questo quindi a me non resta che salutarvi, vi rimando perché in uscita oltre a questo video c'è anche la recensione di fatto. Quindi trovate tutti i link in descrizione, anche per altri tipi di informazioni, per il profilo Instagram, per seguire le anteprime dei prodotti che arrivano qui sul canale, per qualsiasi domanda potete scrivermi lì o direttamente qui sotto nei commenti. A me non resta che salutarvi e noi ci vediamo come sempre e al prossimo video.